Amici di Italia Top Games, buon pomeriggio, buona pasquetta, ve lo avevo anticipato ieri che come tornavo in continente ho preso l'aereo poi dall'aeroporto di Perugia a tornare a casa, eccomi qua come ho potuto, vi faccio il video sull'aggiornamento di oggi che ci porta anche una anticipazione consueta e canonica su quello che accadrà giovedì con l'aggiornamento di cui Konami per il momento non parla se non per le cose di cui abbiamo già parlato a suo tempo, oggi ci dice soltanto che arriverà un accordo al buio adesso andiamo a vedere tutto, ma davvero tutto su quello che c'è già oggi e quello che arriverà giovedì ci sarà il consueto accordo al buio che reputo, credo, che ci porterà il solito pull da 150 giocatori però, come si suol dire, a cavallo donato, non si guarda in bocca, come direbbe Paolo Vitta, a cavallo donato, a cavallo donato al di là delle battute da camera caffè, diciamo che ci sarà questo accordo al buio, un classico di Konami che, come dire, speriamo che ci sorprenda, ma non credo proprio allora, qui c'è stato un problema con il round 3 del Football Championship Open io prima di tutto vado a prendermi questi 500 punti del Football Championship Bro guarda lo stream e così mi arrivano i punti ecco qua, se voi non l'avete presi, non ve ne avevo parlato ragazzi, in questi giorni ovviamente le segnalazioni che mi avete fatto non le ho potuto seguire perché stavo fuori qui questi altri 500 punti per la Coppa di Football Italia guardiamo lo stream e così ci arrivano i punti molto bene e questo è fatto poi, andiamo a vedere se c'è ecco, le novità qui, i punti football arriviamo a 56.000 eccoli qua allora, questa è la novità di cui vi anticipavo informazioni sull'aggiornamento 2.5.0 di Football pubblicheremo la 2.5.0 di Football il 13 aprile per ringraziare tutti del loro straordinario supporto gli utenti che stilleranno l'aggiornamento entro l'1.59 e il 17 aprile riceveranno un accordo al buio una volta installato l'aggiornamento accedi al gioco e apri la posta in arrivo entro l'1.59 del 17 aprile per riscuotere l'accordo al buio potrai usare l'accordo al buio dopo il lancio dell'aggiornamento fino all'1.59 del 20 aprile quindi vedremo un po' cosa ci porterà giovedì ci sono delle indiscrezioni ma ne parleremo con più calma domani quando riprenderò anche il campionato andiamo un po' a vedere invece gli eventi qui vedo la Polonia ad esempio subito subito andiamo un po' a vedere National Teams partita contro AI 30.000 GP in regalo premi 750 punti 30.000 GP 1.500 punti 30.000 GP un evento offline dove dovrete mettere giocatori con le seguenti nazionalità potete anche non metterli ma ovviamente poi i punti che serviranno per fare quei punti ne dovrete fare di più di partite perché appunto non ci saranno i bonus la Coppi Football Italia lo abbiamo visto questo qui è l'evento tour della settimana scorsa no questo è l'evento che ho fatto sì di giovedì scorso questo è l'evento sfida National Teams che è arrivata oggi e ci sono le 50 monete di football anche questa settimana qui davvero dovrete mettere solo giocatori di questi 18 paesi altrimenti altrimenti il fatto è che non potrete in alcun modo giocare le partite se non metterete i giocatori c'è scritto proprio eccolo qui evento sfida in base al tema dell'evento il vostro al mondo chi è il migliore e qui dovrete includi 18 giocatori convocati nella nazionale selezionati in schema di gioco eccoli qua e qui non potete fare altrimenti l'Italian League è della settimana scorsa come la Liga BBVMX è un evento che già sta lì da tempo in memore ultima cosa da vedere oggi è questa il pool squadra del Madrid Rosas RB che ovviamente è l'Atletico Madrid intanto vediamo che giovedì finiscono arriveranno i nuovi giocatori del mese giovedì arriveranno nuovi giocatori del Back to the Clubs giovedì scadranno anche i club selection di Guadalajara Spanish Italia Inghilterra invece no i football championship continueranno fino a quasi fine mese anche le leggende dedicate alla Coppa di Football Italia termineranno eccolo qui oggi la novità è l'evento è il pool Atletico Madrid partiamo da Hermoso 79 21 livelli di crescita forma normale abilità giocatore il suo top è aggressività 82 e coinvolgimento offensivo 81 saliamo con coche 28 livelli di crescita forma incrollabile queste le abilità giocatore la resistenza 84 il passaggio verso terra sono i due parametri più forti Depay 82 25 livelli di crescita forma incrollabile lui non ha nessun 80 dobbiamo dire al massimo il dribbling 79 controllo palla 78 ma con 25 livelli di crescita può crescere abbastanza Griezmann Griezmann forma incrollabile abilità giocatori controllo palla 84 è sicuramente il suo top livello 26 livelli di crescita anche lui può crescere abbastanza Carrasco 29 livelli di crescita 29 livelli di crescita forma incrollabile abilità giocatori dribbling il suo top 84 velocità 80 29 livelli di crescita eppure lui cresce parecchio Depay ho la versione della squadra argentina e sapete che mi piace davvero molto 28 livelli di crescita e anche lui non è affatto male anche se qui non vedo nessun 80 tanti 79 però controllo palla dream passaggio alto resistenza Savic incontrista difensore forma incrollabile e qui lui ha un comportamento difensivo 81 aggressività 86 coinvolgimento difensivo 82 salto 80 infine il più forte è Oblak 18 livelli di crescita parte di 86 forma incrollabile riflessi PT 84 presa PT 82 comportamento PT 81 vediamo che qui nell'immagine Oblak arriva a 96 Carrasfo arriva a 95 Hermoso arriva a 90 ragazzi per il momento è tutto ovviamente al di là del fatto che ci sono le monete che è già successo da qualche lunedì a questa parte non è un grandissimo aggiornamento ma il lunedì lo sappiamo che è sempre un evento un po' come dire un aggiornamento minore però diciamo che adesso tutta l'attenzione per giovedì domani faremo un po' un recap di quello che arriverà di sicuro giovedì di quelle che sono le indiscrezioni per giovedì e quindi domani mattina ci rivediamo e domani sera riprende il campionato e io sono partito con qualche giorno di ritardo ma speriamo di cominciare bene in divisione 5 ero arrivato in divisione 2 lo sapete quindi vedremo come vanno le cose io per il momento vi ringrazio per l'attenzione vi do appuntamento a domani mattina e alla sera in mattinata e poi alla sera con con il campionato e per il momento vi auguro una buona pasquetta fatemi sapere dove siete stati se è stato bel tempo o meno e grazie ancora per l'attenzione e a domani ciao